Ciao, ciao, benvenuti a tutti, ok, un attimino che mi sistemo, magari faccio sparire il microfono, no, lo metto qua oggi va, oggi ne faccio una più centrale, va bene? Così. Ditemi se si sente, se siamo connessi, siamo tutto a posto, intanto io vado a controllare come al solito sulla pagina se esisto, ogni giorno di rito devo andare a fare questa cosa, intanto il primo che si connette per favore mi dica se il messaggio è forte e chiaro, Marco ti sento, Marco ti sento, aspettiamo ancora un attimo che la gente si connetta, ok, intanto io ho fatto un casino qua, benissimo, yes, oggi si parla di soldi, aspettiamo un attimino, ok, qualcuno si sta connettendo, l'orario adesso più o meno è 19.30, vediamo se portarlo avanti, mi sembra un orario abbastanza buono, si sente tutto, yes, ok, 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 bene, 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 sta connettendo, l'orario adesso più o meno è 19.30, sì, ok, sono andato, ciao Gino, ciao, 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 ok, perfetto, perfetto, bene ragazzi, ciao, allora, oggi, scusate, i capelli sono un po' disordinati, ok, niente, oggi ho il bananino qua, mi dovete tenere così, ok, togliamo Facebook, perfetto, va bene, allora ragazzi, si parla un po' di come si fanno i soldi con il bananino in testa, va bene, cioè, andiamo un attimino a capire quali sono le cose che bisogna fare, come bisogna iniziare, come si svolge tutto, cioè qual è la funzione, no, dei social per i soldi, ovvero io voglio fare i soldi sui social, che devo fare, proprio iniziamo da zero, oggi parliamo di questo, in più, ciao, ciao a tutti, ciao a quelli connessi, ok, in più, intanto io sono riuscito a fare un bel casino, come al mio solito, va bene, stai sul furgone, Gino? Bene, tanto ti annoierai, tanto lì a Roma non c'è mai traffico, quindi, voglio dire, sarà una cosa breve, immagino. Allora, come si fanno i soldi con i social? Allora, innanzitutto, di base, i soldi si fanno vendendo, quindi, questa è la prima cosa che devo sapere, quindi, io, per fare soldi, devo vendere un qualcosa, ok, e sfrutto dei canali, come possono essere i social, per arrivare ad attirare potenziali clienti, portarli a me, fare tutto all'altra fila, fino a far diventare compratori ricorrenti, e poi i miei fan che vanno in giro a vendere per me, ci siamo, questa è la base, no, quindi, di base devo vendere, devo vendere un qualcosa, non posso, perché tante persone mi scrivono, mi dicono, Marco, io vorrei fare qualcosa sui social, un amico mi diceva poco tempo fa, vuole aprire un blog, ma sì, ma cosa vendi? Cioè, parliamo, allora, la prima cosa da fare, cioè, non esiste, non esiste sui social, non esiste il sito internet, cosa vendi? Ok, questa è la prima cosa, devi avere qualcosa da vendere, devi avere un mercato, ok, come si capisce se c'è un mercato? La cosa più semplice del mondo, esci fuori e guardi se qualcuno sta comprando e se qualcuno sta vendendo quello che vendi tu, prodotto o servizio che sia, ok, dal momento in cui non c'è nessuno che vende quello che stai vendendo tu, preoccupati, ok, gli inventori muoiono di fame, belli magri, proprio magrissimi, quindi, di base devi avere un prodotto da vendere che abbia una concorrenza, quindi la concorrenza, tutti si spaventano per la concorrenza, ma però ragazzi, la concorrenza è un bene, va sfruttata proprio a vantaggio, la concorrenza è la cosa migliore che vi possa capitare, perché se c'è concorrenza significa che c'è mercato, quindi il tuo marketing può andare a risolvere qualcosa, se non c'è concorrenza, mori magro, fondamentalmente è così, immaginatevi quante persone, nel mio profilo mi scrivono dicendo che hanno l'idea del secolo, cioè, non vi dico, anche in passato c'è stato un periodo della mia vita per cui ho fatto, facevo solo coaching praticamente, quindi mi arrivavano dei contatti profilati, io sentivo queste persone e cercavo di aiutarle, diciamo, nel lanciare il business, ok? Questo qualche anno fa, e ogni giorno, facevo anche 7-8 coaching al giorno, cioè era un lavoro molto pesante, ogni giorno io trovavo persone che avevano l'idea del secolo, e io tra me e me dicevo, cavoli, ma sono proprio fortunato, pensa te che parlo ogni giorno con più di uno Steve Jobs, quindi l'idea, ragazzi, del secolo, ce l'abbiamo avuta tutti, quante volte di notte ti sarai alzato anche tu con l'idea del secolo, adesso faccio questo, per poi scoprire che o non è eseguibile, oppure c'è già, se c'è già è un bene, ma non sei l'inventore del secolo, se non c'è, continui a non essere l'inventore del secolo, sei un cazzaro che ha avuto un'idea, va bene? Cioè, il libro che si legge da solo non ha mercato, partiamo da questo presupposto. Quindi, una volta che hai trovato, individuato un prodotto da vendere, un servizio da vendere, devi perfezionare questo prodotto o servizio. Ciao Luca, com'è a Palermo? Ma sei all'Affiliate Day? O sei lì solo a lavorare? Mi sembra che c'è l'evento, c'è l'evento, se non ricordo male. Fammi sapere. Sì, comunque, una volta che hai individuato cosa vendere, devi farti delle domande, ok? Su questo prodotto. Quindi, questo prodotto ha mercato, la prima. Questo prodotto interessa, la seconda. Questo prodotto ha margine, la terza. Perché se non ha margine, tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso non ha senso. Non puoi vendere un qualcosa che non ti dia del profitto. Perché va a morire tutto il marketing. Cioè, ragazzi, allora, il marketing cos'è? È quella cosa che fa creare un'azione ai clienti, che persuade le persone a fare una determinata azione. Che può essere cliccare, che può essere scrivere, che può essere parlarmi, che può essere entrare, che può essere telefonarmi, che può essere comprare, ok? C'è tutta una serie di cose, è tutto marketing, ok? Se l'Affiliate's Day, grande. Che state a dire? Ma c'è qualche personaggio o siete solo voi? C'è qualche ospite international o siete solo voi? Un po' dopo vi spiego cos'è l'Affiliate's Day, se non lo sapeste. Che anche questo è un modo di lavorare. Comunque, di base, allora, devi avere un qualcosa che ti dia un margine. Cioè, il marketing, stavamo dicendo, è questa cosa, ok? Senza il marketing non si vende. Perché se non vendi tramite il marketing, vendi tramite te che fai il venditore, cioè che vai in giro a prendere a testate le porte e a vendere. Comunque, il tuo tempo ha un costo. Quindi, costa. Cioè, vendere dei prodotti ti costa. Andare a cercare clienti ti costa. Allora, è molto semplice la cosa, so che nessuno ve la dice così chiaro e schietta, ma lo sapete che qua siamo al tonto live, quindi si dicono le cose a livello tontaggine. Tu, per vendere un qualsiasi prodotto, devi investire, ok? Soldi o tempo? Se lavori online, soldi. Non esiste lavorare a gratis. Cioè, il gratis non esiste. Il marketing si paga. Cioè, tu metti dei soldi in questa macchinetta e se riesci a programmarla nel modo giusto, da questa macchinetta ti escono più soldi di quelli che hai messo. Se però il mio marketing costa uno e tu hai di profitto su quello che vendi 0.5, stiamo facendo un errore, ovvero 6 sotto di 0.5 punti. Quindi, cosa succede? Quando tu hai un prodotto da vendere, ma per forza di cose devi trarre profitto. Attenzione, come ripetevo ieri, non è che tu, per forza di cose, devi avere un prodotto solo e fare un grosso profitto solo su quel prodotto. può essere che utilizzi dei prodotti esca, come li chiamo io, che si chiamano front-end nel gergo del marketing e ti servono appunto per attirare le persone per poi, dopo, successivamente, vendergli qualcosa ad alto profitto. Faccio sempre l'esempio del ristorante. Il ristorante non guadagna sul piatto principalmente, ma il ristorante va a guadagnare sul vino, sulle bevande, sulla somministrazione bevande. La discoteca non guadagna tanto sull'ingresso, ma guadagna sul ricavo che ha delle bevande. Così il cinema non fa soldi sul biglietto di entrata, ma fa soldi su tutto quello che ti vende dopo. Ryanair non fa i soldi sul biglietto, ma su tutto quello che ti upsell, soprattutto su tutte le cose che ti inchiappetta quando sbagli. Io sono l'unico che riesce sempre a prendersi inchiappettate da Ryanair e alla fine mi costerebbe meno costare in First Conm e Emirates che andare in Ryanair perché compra l'accesso rapido, compra quello, compra quell'altro, paga la valigia perché è troppo grossa, e dentro riesco anche ogni tanto a comprare quelle minchiate e poi lascio magari anche sul sedile, alla fine questo è. Quindi il tuo metodo deve essere ok, trovo un prodotto che abbia un mercato, trovo un target ovviamente, che il mercato è il target, cerco di avere cose che hanno profitto, più profitto hanno meglio è, perché con quei soldi io mi devo pagare il marketing. Allora, i social sono un mezzo di comunicazione a pagamento, come tutte le cose, però i social ti permettono oggi di raggiungere un target di persone a basso costo, lo ripeto meglio, il social oggi, soprattutto Facebook, ti permette di raggiungere un target specifico a basso costo. Cosa significa a basso costo? Che tu hai la possibilità di prendere un email per un euro o di prendere un contatto webinar per 20 euro, magari un cliente che ti compra per 100 euro, che magari se tu lo dovessi fare per strada ti costa molto di più, perché magari devi lavorare una settimana e voglia tra benzina, girare e fare e dire. Cosa significa mi costa 100 euro? Significa che se tu hai speso in sponsorizzate Facebook, quindi in annunci Facebook, 100 euro per trovare un cliente, quel cliente tu l'hai pagato 100 euro, un cliente che ha acquistato. Se invece ti interessa solo avere la mail, il contatto, il cellulare di una persona, il costo si va a ridurre. Non c'è un prezzo specifico, ma di base, a forza di farlo, il tuo target capisci più o meno quanto ti costa. Per dire, io per vendere un corso da 1000 euro, è capace che devo spendere 250 euro di marketing. E tanto è poco. È poco, perché ho un profitto alto. Invece parlavo con una persona che aveva un business fatto male su cui aveva un margine troppo basso e voleva far sponsorizzate. Ragazzi, la matematica non è un'opinione. Se tu dopo non riesci a avere margine per fare le cose, automaticamente i soldi sui social non li fai. È così che non li fai da nessuna parte. Per farti un esempio pratico, se tu sei un gommista e guadagni un euro a gomma, ok, che vendi. Tu dici, ok, sono 4 euro a macchina, quindi metto gli annunci su Facebook per acquisire clientela. Ma se hai preso un cliente su cui guadagni 4 euro e hai speso 40 euro di pubblicità, c'è qualcosa che non funziona nel tuo business. Lascia stare. Lascia stare. È anche vero che poi, tu dici, va bene, però mi tengo il cliente per sempre. Va bene. Ok, se tu riesci poi a agganciarlo e a farlo spendere tutto l'anno, va bene, ma con le gomme, cioè non credo che tu possa fare una cosa del genere. È troppo pericoloso. Ciao Elisabetta, mette le cuffiette sull'autobus. Oggi mi ha detto che in mio onore si è portata le cuffiette. Luca dice, sì, ha fatto interventi anche Marcello, domani meeting per migliorare ulteriormente. Cos'è il marketing per affiliazione? Non so se ne avete mai sentito parlare, ve lo spiego. Faccio affiliates marketing, no? In sostanza, tu prendi il prodotto di una persona X e lo vendi a una persona Y, ok? Questo è. Quindi io mi affidio a un network, ce ne sono tantissimi, e cerco di fare, cioè compro e vendo. Faccio questo passaggio qua. Quindi compro da una persona che ha un prodotto X e vendo a una persona Y. Si fa su internet. Luca lavora con Marcello, Marcello Marchese, un mio amico, un copy molto bravo, e ha questo network di affiliazioni. Vendono oggetti su internet e fanno un sacco di soldi. hanno un grosso margine, fanno tante vendite, hanno tanto di affiliati, insomma, le cose funzionano così. Quindi anche questo è un modo per far soldi, cioè l'affiliate marketing è un modo per far soldi. Non ne sono un esperto, non ho mai fatto, ho fatto ads per chi fa affiliazioni, ma non sono un esperto di questo campo. Infatti adesso sono a Palermo per fare un meeting su questa cosa qua. Questo è anche un metodo di fare soldi. Quindi in sostanza cosa devi fare? Una volta che hai trovato un prodotto che ti dia del profitto, che abbia un mercato, da lì puoi creare il tuo format educazionale e vada che questa cosa qua sono il primo a dirla. E se sento qualcuno che parla di format educazionale gli taglio le mani, perché adesso la brevetto, nessuno può dire format educazionale. È mio. È mio. Devi educare il tuo cliente a passare da un potenziale cliente che non ti conosce, quindi che comincia a sentire, si interessa, a fare delle piccole azioni nei tuoi confronti finché non compra una, finché non diventa un cliente ricorrente e soprattutto finché non diventa un tuo fan, come lo siete voi di me, che è andato in giro a sponsorizzare e dire che sono il più bravo comunicatore che parla di social del mondo, Montemagno non ti temo, e mi sponsorizzate. Va bene, quindi questo è il modo per fare i soldi, cioè come si fanno i soldi sui social, trova un qualcosa da vendere e piazzaci un format educazionale, butta ciccia per fare le sponsorizzate ai budget e vai. Quindi questo è il modo di fare i soldi. Tanti mi dicono come inizio, da dove inizio, ma che non ho un prodotto e se non è un prodotto, no, ragazzi, non si parte. Cioè la prima cosa da fare è testare un prodotto sul mercato. Cioè ricerca di mercato si intende quando tu testi un prodotto o controlli quello che fa la concorrenza di un prodotto su un mercato che venda evidenziatori, ok, per lavagne, pennarelli per lavagne, cosa significa? Significa che devo andare a vedere chi compra queste cose, chi vende queste cose e trarre le conclusioni. Ho margine, non ho margine, ho un punto di attacco differente rispetto agli altri, ma c'è tutta una serie di cose da fare, per cui questo ti permette poi di andare a fare ciccia, ok? Il mio scopo, ragazzi, è fare grana. Lo so che, tipo, io adesso potrei starmi al bar a bermi un amoretti e a buttare, a calare l'asso di bastoni tra i bastoni e al bar, no? Mi piacerebbe anche farlo. Non l'ho mai fatto, ma non ce ne è mai stato nelle mie corde, però potrei fare questo. Però in realtà sono qui a parlare con voi perché sto facendo un format educazionale, ovvero ti interesso a una materia, a un qualcosa che io poi vendo e a forza di educarti, farti capire che se senza certe informazioni bruci i soldi, automaticamente poi ti abituo a comprare i miei corsi e via dicendo, a fare tutto la scala. Quindi avete mai pensato voi come fare? Tra l'altro, ragazzi, non vedo neanche un like al post. Vi odio con tutto me stesso. Fammi vedere. Nessuno che mette like. Guarda, me lo autometto addirittura. Guarda che triste. C'è solo il mio like. Anzi, mi metto il cuoricino. Sono talmente sfigato che sono l'unico che si deve mettere i like da solo. Mai che mai fate share, mai, mai, mai che mi mettete una reazione. Cioè, siete tirchi. Tirchi. Non comprate i miei corsi a basso ticket. Non comprate quelli ad alto ticket. Cosa devo fare con voi, ragazzi? Cioè, io non so. Rimango basito. Per fortuna c'è la reazione di qualcuno che qualche soldino con me lo spende. Francesca Gatto, anche lei qualche soldino lo spende. Bravi, bravi. Bravi. Oggi siamo pochi. Però devo dire che questi video poi vengono visti molto successivamente. Perché probabilmente l'orario è questo. Però le dirette sono particolari. Sono molto più difficili da seguire. Va un po' contro quello che fanno tutti quanti. Perché cosa fanno tutti? Cercano di fare video short, no? Per avere il massimo dell'attenzione. Io invece faccio video lunghissimi e me ne sbatto altamente il cazzo. E vediamo cosa succede. Tra un po' siamo in periodo di lancio. Tra l'altro due lanci. Perché ho il lancio con la community qui dei social. Io ho il lancio dalla parte dell'odontoriatria. Più sto pubblicando in self-publishing un altro libricino e un altro DVD. Non mi resta che piangere come diceva qualcuno. A breve ci sarà ecco oggi mi chiedevano in privato Marco allora non ci ho capito un cazzo. Che cazzo stai vendendo? Che cazzo stai facendo? Alt. Mi metto qua e te lo spiego. Te lo spiego con tre colori. Secondo me potremmo usare i colori questi qua. Cos'è la bandiera romena? Possibile che la bandiera è romena? Va bene. Utilizziamo questi colori. Quindi un webinar che ho già fatto. Le ads non servono ad un razzo. Ok? Lo puoi acquistare su marcodoria.com al prezzo di 147 euro. se l'avessi comprato prima ma Naya Tia oggi l'avresti avuto a un prezzo migliore ma soprattutto avresti ricevuto a casa il mio bellissimo cofanetto il mio bellissimo cofanetto con dentro il mio bellissimo DVD con il mio bellissimo libro La Bibbia delle ads e ancora delle sorprese dentro che non posso dire. Quindi questo è stato uno. Ok? Già fatto. Puoi acquistarlo dopo. Attenzione signori ci sarà un secondo webinar il 24 di questo mese lo lancio quindi basta seguire ok? Si chiamerà Face Fast e a differenza del primo che ti parla della strategia per ottenere risultati pazzeschi su Facebook dove ho fatto vedere dei casi studio fatti da me per ottenere CTR del 15% e creare il format e capire come funziona cioè quali sono gli ingranaggi questo qua è il secondo webinar che ancora deve essere fatto che sarà lanciato il 24 ok? Questo sarà un corso tecnico sulle ads cioè come creare l'inserzione fai questo fai questo clicca questo clicca quell'altro finish ovviamente sono legati perché per fare un tipo di fare le inserzioni ti serve anche avere una strategia e viceversa ovviamente non puoi avere solo una strategia bellissimo sono baffo dice Francesca terzo terzo pennarello ci sarà Instastart ok? che è un corso sul funzionamento di Instagram fatto da Luca ok? che sarà fatto dopo ovviamente le date le dirò di volta in volta tu cosa puoi fare oggi? puoi comprarti tutto quanto e dentro guarda un po' sono proprio baffo eh tata c'è anche la mia consulenza social personalizzata quindi ti andrò a dire io cosa fare tutta sta roba te la puoi accatta oggi a 240 147 euro ma se aspetti il lancio questa qua la mia consulenza personalizzata non la vedi più e rimane questo ok? di volta in volta potrei comprarmi uno spero di avervi spiegato tutto guarda come sono abbassate le view quando ho fatto la vendita ma è normale ragazzi però lo dovevo spiegare chi non l'aveva capito almeno se lo viene a sentire va bene ragazzi detto questo vi saluto oggi quindi abbiamo parlato di come fare ciccia sui social cioè quelle sono le cose importanti la cosa che puoi fare tu oggi è cerca di capire il tuo prodotto come poterlo portare mi godo un casino che sono usciti sono usciti dalle view adesso e che sto per dire una cosa importantissima bravi così chi è rimasto se lo sente quindi la cosa che puoi fare è fare ricerca nel tuo mercato per capire come puoi aumentare il valore percepito del tuo prodotto ok se tu vendi una cosa che vendono tutti gli altri devi trovare il modo di pacchettizzare questa cosa rendeli proprio farla diventare un uovo di pasqua cos'è un uovo di pasqua come chiamo io l'uovo di pasqua è quella roba che dentro ha una sorpresa schifosa ma in realtà ci costruiscono un mondo dietro per far sembrare bellissimo quando tu lo ricevi questo non voglio dire che devi vendere merda però voglio dire che devi creare una vendita esperienziale al tuo potenziale cliente di modo che il valore percepito sia più grande differente rispetto a quello che solitamente potresti avere immaginati la sorpresina del uovo di pasqua che a volte è ecco qua ecco trovo questo nel uovo di pasqua cos'è cosa ci faccio già qua sono stati furbi che ci hanno scritto Sandec che è la marca dei costumi però in realtà il discorso del uovo di pasqua funziona ragazzi perché tu devi pacchettizzare quello che tu fai per renderlo più appetibile più come dire aumentando quel valore percepito che il cliente va a cercare ma questo lo fai solo interrogando i tuoi potenziali clienti per dirti sempre per fare un esempio su quello che faccio io io interrogo sempre le persone so cosa devo andare a proporre so cosa devo andare a fare rispetto ai miei concorrenti che magari vendono altri tipi di corsi magari trovo qualcosa in esclusiva miglioro un certo tipo di prodotto faccio un pacchetto differente e creo un uovo di pasqua più bello ancora enorme ok in sostanza però dentro ci deve essere sempre una bella sorpresa ricordiamoci quello ecco noi dobbiamo essere l'uovo pasqua della kinder tanto per essere sul pezzo quindi in realtà ragazzi la cosa per fare soldi sui social facendola brevissima devi trovare un prodotto che abbia un ampio margine non ascoltate chi vi dice cose diverse da queste quindi un ampio margine oppure appsellare un ampio margine dopo quindi dovete avere profitto perché il marketing voi lo pagate i social di pagate non esiste lavorare sui social gratis voi pagate i social dovete avere il profitto da investire da investire in formazione cioè tutta questa serie di cose dovete avere ciccia e soprattutto mettervene anche in tasca poi da questo parte il discorso ok come lo rendo più con un valore aggiunto come aumento il valore come creo il mio uovo di pasqua della kinder ho detto la cosa più bella verso la fine sono contentissimo va bene ragazzi direi che posso andare oggi ho avuto un po' di casini tra un po' ci sono le tasse è bellissimo fare l'imprenditore è bellissimo vabbè ragazzi vi saluto mi raccomando seguite seguite ricordatevi segnatevi la data che il 24 c'è il lancio di FaceFast tutti pronti con la carta di credito in mano per strisciare perché ci sarà una super offerta va bene ragazzi ciao e alla prossima